Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami Abbiamo visto tutti il suo impegno costante e determinato per la ricostruzione dopo il sisma Com'è la situazione attuale e che cosa serve attualmente dalla parte delle istituzioni? Le istituzioni hanno dei tempi abbastanza lunghi, oggi noi siamo vivi grazie al mondo della solidarietà Siamo riusciti a fare dei provvedimenti per mantenere il tessuto economico vivo grazie a voi Per cui stiamo andando avanti, ci sono tantissime persone che stanno venendo nella mia terra Non solo nella mia, per portare della solidarietà che anche acquistare dei prodotti Che restare vicino, per cui da questo punto di vista io non è che sono contento ma stracontento Poi so che le altre procedure sono un po' più lente, però vedi la ricostruzione passa se poi regge il tessuto economico Noi stiamo facendo una serie di misure affinché la gente possa aspettare la ricostruzione quella definitiva Grazie, è stato gentilissimo, non le rubo altro tempo perché so che è di corsa, grazie mille Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami